Fa parte della rosa Non dico domenica perché la prossima settimana sto cercando di domenica ma in campo Poi, questo l'ho già detto il 2 di luglio Se c'è qualcuno di serio Questo vale per tutto, dalla cessione della società Alla cessione di un bicchiere C'è qualcuno che ci ha voglia di parlare seriamente Non di prenderci in giro Noi ci sediamo Con tutti Dove vendere sto bicchiere o dove vendere la società A seri Ci sono le cose fatte bene Non abbiamo bisogno di vendere la vendetta Non abbiamo bisogno di vendere la vendetta E' un giocatore della Ternana E' un giocatore sicuramente che ha mancato Ma io lo dico io, lo dico Basta E' un giocatore della Ternana, seri, io gioco Eccomi, allora posso Mi